buon pomeriggio a tutti e oggi vi mostrerò il mio nuovo cane come vedete ho ricominciato la versione balboncino perché gli altri cani ormai mi stancavano e poi è da un bel pezzetto che non ci giocavo perché sarà più di due settimane che non lo toccavo più quindi ho deciso di riniziarlo e lei questa bellissima cagnolina che vedete qui bianca e marrone tra vetri colore vabbè bianca nera e marroncina e dannazione no venus scusate per alcune parole che metto e che sono un po' non soddisfatta per questa cosa perché ho un cellulare nuovo il samsung galaxy next urb in teoria dovrebbe vedersi bene ma evidentemente no un po' meglio dell'altro si comunque lei è venus si dai come vedete è un già classe una femminuccia piena di gioia di vivere affascinata da tutto ciò che lo circonda femmina sottopeso corporatura sottopeso fame sette nessuna pelo corto pulito comandi sei primi tre seduta pa e pa 2 l'ho appena presa primissima e legale come vedete nessuna ma credo che sarà brava me lo sento quindi ora chiamiamola venus venus eccola qui lei è venus cucciola ho deciso questa volta di iniziare sempre con una femmina perché mi trovo benino anzi che devo dire benone e mi piaceva di questo colore appena l'ho visto ho detto eh no è lei il mio cane deve essere lei venus seduta pa pa 2 brava benissimo anzi una cosa che mi ero dimenticata di farvi vedere è i punti 48 come vedete sono gli stessi video per youtube vabbè faccio schifo video per youtube ho come vedete già rincontri e 48 punti già rincontri e 48 punti e new dog con la bellissima foto che mi lecca lo schermo mi regalo la pallina questa sono io kia chan kia chan perché kia è il mio soprannome tutti mi chiamano kia 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 sembra quelli di chero bene perché io sono una fan degli anime specialmente di chero e doraemon 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 vabbè andiamo avanti poi fuori casa abbiamo 520 euro sembra 40 no 520 ragazzi si si e zero contapassi poi ho solo questo ma adesso andiamo a fare un po' di compere mettiamoli questo già che ci siamo vediamo carina si per ora andiamo qua ora andiamo su acquisti e vi faccio vedere questo è il negozio compriamoci già questi biscotti ne compriamo 15 no 20 dai si si dai benissimo ovviamente per spazzolare la la spazzola è davvero corto per ora gli compriamo l'osso bicolore bellissimo il boomerang così può anche un po' correre che bello si ma se avete visto l'altro mio video questi oggetti li avevo già fatti vedere e guardate qua una bellissima isca rosa il rosa io vado pazza per il rosa oh rosa mio e basta perché vedete ci sarebbe la piuma per i gatti ma ora non ho gatti quindi non mi serve ho la tv accesa non fateci caso e ora e ora andiamo negli accessori e vestiamola come la potremmo vestire vediamo come mi sta questo neanche me ne voglio aspettare che arrivano i fiocchi quelli bianchi e neri che si intonano un casino no 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 non mi sta intanto mi sembra da maschiaccio oh che carina bianchi che dopo si intona anche con questo oh che carina ne sta benissimo si dai compriamo questo e lo mettiamo poi vabbè i fiocchi e rosa non li metto perfetto si dai ho comprato solo le cose che nelle altre versioni non c'erano perfetto vediamo com'è venus venus sta proprio bene con quei fiocchi si intonano un casino perché ha i pallini bianchi che si intonano un casino con il collare tieni diamo il primo biscotto poi volevo voglio farvi vedere che arredamenti abbiamo nel nella scorsa nella scorsa versione non l'avevo fatto vedere vabbè vabbè mobili abbiamo vabbè la cuccia vi faccio vedere qua il divano però però abbiamo questo questo perchè non va avanti no giusto no no e basta si solo questi invece su rinnova abbiamo lo stile scandinavo lo stile fatato a 0 euro ragazzi 0 euro gratis anche l'altro era gratis no non me ne importa poi lo stile giapponese molto rilassante a 1000 euro e lo stile orientale anche questo molto rilassante dopo cosa posso farvi vedere albergo non ho niente vi faccio vedere le razze che ho sono appena all'inizio come vedete ho il balboncino il corgi lo snauzer il boxer il labrador lo shizuk del crasso volpino e bull terrier e tre gatti perfetto io direi di concludere qui e quindi ci vediamo nel prossimo video che sicuramente farò dove farò vedere il secondo cane più le news quindi arrivederci arrivederci al prossimo video per ora è tutto da redloveligenna e venus è tutto e vi diamo appuntamento al prossimo video saluta ciao fai ciao agli youtubers ciao 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 Grazie a tutti.